Quali sono gli elementi essenziali che rendono una home page vincente? Sono tre questi elementi. Il primo è dire subito, in maniera chiara, immediata, facile da leggere, semplice da capire, senza tanti giri di parole, che diamine fai, cosa offri, qual è il tuo servizio? Non con queste cose vaghe, poetiche, eroiche, che poi dicono tutto, ma non dicono niente. Che diamine fai? Che cosa mi offri sul tuo sito? Qual è il problema che risolvi? L'elemento numero due, ma chi sei? Chi c'è dietro questa offerta, questo negozio, questo servizio, questa organizzazione? Chi sono le persone che lo fanno funzionare, lo finanziano, gli danno ali per volare? Vorrei saperlo prima di mettere mano al portafoglio o spendere tempo su questo sito. Quindi c'è al minimo un link diretto al chi sono con una presentazione chiara e non la solita pappardella generica. Ci sono delle informazioni dettagliate su chi c'è dietro questa azienda, con foto, nomi, cognomi, presentazioni chiare, dirette, concrete, dei vari ruoli e di come poterli contattare? Oppure è tutta una cosa vaga, al plurale, eccetera. È vitale sapere chi c'è dietro, perché se è vero che la fiducia è la valuta corrente nel mondo digitale, bisogna che so chi sei. Non è che mi posso fidare di un bel marchio, di un bel logo. Elemento numero tre è decisivo che tu mi fai vedere subito al volo, perché io non è che posso star qui delle ore a esplorare il tuo sito e a fargli l'analisi. Cosa hai da offrirmi? Senza che io debba scrollare la pagina, andare su e giù, cliccare da 200 parti diverse, avere al minimo un indice chiaro dei contenuti di valore delle sezioni del tuo sito o al meglio una serie di blocchettini, di box, di icone che mi indicano cosa hai disponibile di modo che decido se voglio restare qua ed esplorare di più o andare via. Questi tre elementi sono, secondo me, gli elementi più importanti per far sì che una homepage funzioni. Me ne frega un tubo a me che è fighissimo, che hai delle immagini spettacolari che scorrono ogni sette secondi con delle scritte, loghi giganteschi, 200.000 cose che attraggono la mia attenzione, perché questo è quello che poi vedo sulla maggior parte dei siti. Mi interessano poche cose semplici, chiare, dette con uniformità, coerenza, pulizia, senza strillare. Per questo non ce ne puoi mettere 200.000, per questo l'obiettivo non è di impressionarmi con le immagini che scorrono e altre cose spettacolari, l'obiettivo è presentarsi in maniera chiara, precisa, onesta, affidabile. Così come faresti nella vita di tutti i giorni se volessi lasciare una buona impressione a chi ti incontra per la prima volta. Subito, chiaro, immediato, up front, senza tanti ghirigori, non vai vestito da Elton John, insomma, per creare nuove relazioni sul tuo sito. Se conosci dei siti web, incluso il tuo, dove tu o chi per te ha messo in atto queste tre semplici regole, condividi la tua URL, così possiamo vedere e imparare gli uni dagli altri. Dammi una mano! Grazie a tutti!